cose più o meno utili su Amazon. Oggi vi parlo di una penna gel cancellabile a marchio Legami. Legami fa prodotti di cancelleria con design molto stravaganti. Questa penna in particolare ha il tappo a forma di gattino, ma ne esistono tante altre che rappresentano vari animaletti e fantasie. Quindi ci si può divertire a collezionarle tutte. Ognuna di queste penne ha una diversa frase impressa sul corpo. In questa c'è scritto be curious, cioè essere curiosi. Un po' come lo sono i gatti. Sulla parte finale è indicato con un bollino il colore dell'inchiostro. Questa ad esempio lo ha di colore nero. Il tratto è scorrevole e ben definito, non lascia sbavature ed è facilmente cancellabile grazie al gommino in materiale plastico che si trova su un'estremità della penna. Io non vedo l'ora di averle tutte. E tu vuoi acquistarla? Link in bio.